Un naso nuovo ricostruito da zero sull'avambraccio di un paziente grazie alle cellule staminali. E' questo il risultato di uno studio pionieristico portato avanti dall'Università College di Londra. Se tutto andrà bene, il paziente, colpito da un cancro alla pelle, potrà recuperare il suo profilo. Il naso, infatti, una volta ricresciuto completamente, verrà rimosso dall'avambraccio e trapiantato sul viso. La speranza dei ricercatori è che l'organo potrà restituire all'uomo anche l'odorato ed avrà una certa sensibilità. Il nuovo naso è stato fatto crescere a partire da un modello di vetro su cui è stato spruzzato un materiale sintetico che ha creato una sorta di impalcatura su cui poi sono state innestate le cellule staminali del paziente. Mentre in un bieroattore le cellule davano vita alle cartilagini del naso, i medici hanno esteso la pelle del paziente creando spazio all'interno del braccio con una sorta di palloncino. Ora, dopo circa due mesi, nello spazio del palloncino è stato inserito il nuovo naso che sta sviluppando nervi e capillari, oltre a ricoprirsi pian piano di pelle. Tutto sembrerebbe procedere per il meglio. Ancora un altro mese, ha spiegato il ricercatore che guida questo esperimento, e sarà pronto per essere impiantato sul viso del paziente, che lo ha voluto identico, compresi i difetti, a quello originale. Fra almeno altri tre mesi, il naso sarà rimosso dal braccio e ricollocato sul volto dell'uomo in un intervento che non dovrebbe lasciare cicatrici eccessivamente evidenti. Il braccio poi potrebbe tornare normale e la pelle restringersi nuovamente. L'uomo ha chiesto di rimanere anonimo. Aveva subito una rimozione totale del naso dopo che un tumore aveva attaccato l'organo. La malattia è stata arrestata, ma il paziente era rimasto segnato per sempre. Diciamo da un punto di vista soprattutto estetico, perdere il naso è una cosa abbastanza devastante per una persona. Non si tratta del primo caso di parti del corpo fatte crescere all'interno delle braccia, ma questo è l'unico caso in cui si riproduce un organo a partire da zero. Lo scorso anno, ad esempio, alla Johns Hopkins University di Baltimore, a una donna è stato fatto ricrescere nell'avambraccio e poi trapiantato un orecchio. In questo caso però l'organo era stato ricavato dalla cartilagine della costola della donna stessa. Vi ringrazio e vi rimando alla prossima.